What's up guys, quel vostro Naked che vi parla ragazzi, siamo tornati con un nuovo video C'è un mio oggi Nakedone, porco dude, vi porta un'arma che ahimè ti sderena Ma ti sderena nel senso che ti toglie tutto, codice fiscale, cittadinanza, amicizie, amore Talmente forte e facile da usare che anche mia zia, se dovessi dare in mano il pad a mia zia Con in mano quest'arma probabilmente farebbe 34 kill a partita E molti di voi secondo me non ci ho capito di che arma che sto per andarvi a parlare Eccola qua Il Brennero, il Bren, il nonno del Bruen Un'arma che definire devastante e riduttivo Allora raga ho rimodellato la classe rispetto al video quello delle classi Perché c'è un accessorio che la rende non tanto più forte ma veramente molto molto più facile da usare Ovvero il caricatore da 40 colpi Ok la stabilizza veramente in modo devastante Da un po' fastidio perché il caricatore in alto sembra un pene Ok quindi eretto quindi da un po' fastidio Occulta un po' la visuale però in realtà solo all'inizio ci fate caso Poi non vi renderete neanche conto di avercelo E ho fatto un'altra modifica Finalmente ho sbloccato il calcio shield imbottito E l'ho inserito all'interno della classe In modo tale da stabilizzarla ulteriormente Ok poi per il resto è tutto uguale come avete già visto nel video precedente Vi faccio una premessa sul video Non ho usato questa classe Questa è la classe che poi ho provato consecutivamente nelle partite dopo Ho usato il brand quello che si trova nei lutti iniziali Quello viola che ha il caricatore appunto da 40 colpi Giusto per farvi capire che anche se trovate quella cappero di arma La potete tenere è talmente forte che nonostante poi la si trova all'inizio Quindi se la trovi all'inizio è inutile che vi dica che lo sfracellamento è assicurato Giusto per farvi capire Per rendere l'idea che quest'arma adesso è lievemente overpower Allora raga vi dico Quasi sicuramente prenderà un bel nerf Ma ne sono certo Adesso dirvi tempisticamente parlando il quando non lo so Però è sicuramente raga la prossima arma che si beccherà un nerf Quindi se ce l'avete livellata Sfruttatela in questo momento Perché sicuramente gli taglieranno le gambe Perché oggettivamente è veramente troppo forte Rispetto alle dirette concorrenti Quindi ragazzoli belli Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate Del video del brand nerone nazionale top arma in the world Non dimenticatevi di iscrivervi al canalone del Nike Godetevi il video raga Vi mando un bel bacione Alla prossima Siamo Nordels Lei è un birichino Uccidete tutti Via C'è un soldato C'è un soldato C'è un soldato C'è lo sotto mi sa A mandalo Che resto è un mandalo Allora quanti twark gli ho fatto Ho finito le muni Dio cantante che tempismo Si mi ha Mi ha lanciato un insulto Solo che non l'ho captato Mamma io so scalda piadine Farò proprio cacare comunque Quanto è forte sul multiplayer quest'arma E quanto non mi piace su Warzone Credibile Credibile sta cosa Tornerò lì Devo prendere la mia vendetta Madonna Vedi quest'arma è cazzo da nerfare Sono quello di prima Vedi tu ti trovi questa cazzo di arma allo start Basta Finito Cioè raga vi sembra normale sta cosa Vi sembra normale Cioè questo è quello che raccogli da terra eh Cioè a me non sembra normale Poi non so a voi raga A me non sembra minimamente normale Che un'arma ti disintegra così tanto Cioè Proprio da che mondo è mondo Vedete un po' voi Guardate che roba raga Questo è quello da terra eh Cioè ti trovi sto coso E hai vinto Ah hai vinto Cioè puoi tranquillamente non prenderti nessuna cazzo di arma Però ancora forte Cioè guarda come cazzo lo Cioè tu una volta che l'hai craccato È morto Una volta che l'hai craccato Gli dai un cazzo di colpo Regà Cioè una volta che l'hai craccato Non devi fargli un cazzo E c'è praticamente morto Io giuro non capisco raga Mi sembra troppo assurdo Prevedo nerf in tre Due Uno Un'altra volta frate Un'altra volta È brutto Se sono a una certa distanza Ecco l'ho camperato lì Che cazzo stai facendo qua, fratello? Sei impazzito, sai Vedete, andiamo a pusharlo questo Sì, dai, mi sono rotto il cazzo Questo c'era il pump, c'era il gallo questo God, posso dire che è God Oh cazzo Posso dire che ho quasi rischiato la vita qua Posso dire che questo qua andrò a sparare? Molto meglio Guarda, questo qua è il progetto, non è la mia build, è il progetto quello da terra Dovevo ricordarvelo per chi è entrato adesso E' quello che si trova per terra, me lo sono tenuto tutta la partita No, non volevo salire, non volevo salire giuro Vabbè Inizio a spostarmi Che vedo lì Arriva il gas Marco la nuova zona sicura Eccala, stannato Eccala, eccala, eccala Come perdere una partita per la stun Come perdere una partita abbastanza bella Unlucky, unlucky, unlucky Unlucky, 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 unlucky Unlucky, unlucky, unlucky